Questa è una forma che in qualche modo segna un ritorno a una socratica oralità e credo che sia molto opportuno almeno per me in questa fase, in questa fase anche di difficile equilibrio tra parola e scrittura. Mi è capitato di dire in un'occasione importante quale fu l'uscita dall'università, ma io odio parlare quanto adoro scrivere e quindi c'è in me questa maledizione, maledizione o benedizione della scrittura e penso che la scrittura per me sia un ostacolo anche alla comprensione delle mie cose, non perché sia una scrittura difficile, no, la frase è semplice, il contenuto è difficile e verifica ogni giorno la difficoltà del lettore di fronte, quindi questo ritorno al parlare forse può ovviare a questa difficoltà. Non so se ci riusciremo, ma appunto cerchiamo di fare questo tentativo.